Bella raga, qui Zeus, benvenuti qui su Rainbow Six Siege Allora raga, siamo nella mappa Gattacielo Vediamo, io ho preso Legion E' una partita dopo tantissimo tempo che non gioco Quindi devo sistemare un po' tutte cose E siamo in quattro Come avete visto, raga Il mio compagno non ho capito se è crashato O è uscito Non ci ho fatto caso Perché non pensavo che crashasse Subito, praticamente Manco un round Manco un round giocato Comunque raga, vediamo Allora, distruggiamo sto drone Mannaggia, proprio che non lo... oh La mira non è delle migliori Perché ha da tantissimo tempo che non gioco Già, questo di qua ve lo devo dire Ogni volta che gioco, che registro Dovrei giocare almeno Una decina di partite Cioè ne ho giocate due di prova, però Evidentemente non basta Allora, la baricata... no Pensavo che baricassi anche quella accanto Non è stata così Barichiamo qua Ah, ok Sto andando a baricare Questa di qua a sinistra Ottimo Però mi piazzo i legion Qua... Vediamo Mi metto dentro dove ho messo... Faccio la tattica Quello dello scudo Vediamo Vorrei piazzare anche Dopo quello nella fine Uh, bello 4-4 Subito Quello dei tizi si sono uccisi Ora mi piazzo qua Bello sistemato Tanto non penso che qualcuno Mi venga subito qui E raga, devo abbassare Un secondo Proprio ci metto 30 secondi A abbassare qua Devo abbassare Questa di qua Orizzontale la mette 65 Questa di qua La abbasso pure La mette a 55 Quello di lei è troppo alto Cioè non ce lo faccio Eh, ho il legion Buttiamolo lì Se quello di là vuole venire Si becca il mio legion Da cavolo stanno Nella... In geisha No, starà fuori Starà fuori Ok Eh, allora Uh, si è beccato il mio Bello 4-3 Sperando che il mio compagno Ritorni Alla, ottimo Qui non vedo nessuno Ottimo Uh, è ritornato Grande L'ho chiamato Eh... Qui non vedo nessuno Raga È qua È qua da me È qua da me Forse viene da questo lato Raga, mi spavento Se qualcuno mi vede Da geisha Ma ci stanno i miei compagni Lì Io non penso Uh, sta là Eccolo Mannaggia Per quanto non l'ho ucciso Sta qua Sta qua Raga Attenzione No, hanno plantato Mannaggia 4-1 Dai, oh Non ci facciamo fregare No, va alla finestra Non lo possiamo disinnescare così No, no, no 4-3 Dai, dai, dai Cavolo 2-1 2-1 2-1 Dovevo rimediare io Il mio compagno La vedo brutta Raga Dai, dai Ora che distratto Rinforzo Va immediatamente Disinnescare Raga Ok, perfetto Lascia le fate Il mio compagno Grandissimo Primo round Portato a casa Raga Ottimo Eh, vediamo Non si fa Eh, mi raccomando Non disinnescate così Eh, ho fatto 0 kill Andiamoci a giocare Il secondo round Ok, raga Secondo round Operatrice Ash Sull'1-0 Il mio compagno È rivenuto Ma è ricrasciato Di nuovo Quindi Ottimo Quelli di là Si sono di nuovo Riuccisi Fantastico Eh, allora Vediamo Qualision Eh, chi è l'ultimo Che manca L'appello Ok, il mio compagno È ritornato di nuovo Ma non so per quanto tempo Resterà Cioè, devo essere sincero Eh, allora Qui Andiamo a vedere qua Chi è l'ultimo Non riesco a capire Che vera Forse quello è nascosto là Non lo capisco Comunque Eh, vediamo Andiamo da questa Distruggiamo qua Non mi piace Questi qua Giapponese Cinese Cos'è Allora Andiamo avanti Eh, allora Spankil C'è qualcuno Infatti Lo sapevo Ecco perché Non ho approfittato Qua Di uscire L'altra volta Mi hanno fatto Di spankil Da qua Raga Ve lo ricordo Forse l'ho registrata pure Questa Questa partita Non me la ricordo Perché sei scesa Ok Eh, l'ho registrata pure Nesta partita Quando mi hanno ucciso Da là Non mi ricordo In realtà Allora Apriamo un wallbang Non ci sta nessuno Ok, lì è tutto aperto Eh Così qua È un problema Questo vuol dire Che non possiamo Plantare Allora Vediamo dove cavolo sta Starà là Starà là Eccolo Mannaggia Ho detto Eccolo Ma i riflessi Non li ho avuti pronti A sparare Ma ha tolto Tanta di vita Va bene Allora 4-3 Droneiamo un pochettino Andiamo a vedere Dove stanno Qua non ci sta nessuno Ottimo Ok Qui dentro Bombati C'è Nessuno Impossible Eccolo qua Lo Jäger No, no Cambia, cambia Veloce Vediamo se riesco A farlo così No Il Bennett Mi è piazzato Davanti Resto un secondo qui Raga E vedo Vedo se gli viene Qualche strana idea Di venire Allora Qui non vedo nessuno Però Oh no No, 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 no Caveira Stai calmo Allora Io me ne scendo E me ne vado via Via, via, via Oh Qua c'è la finestra aperta Ok 3 contro 1 Ottimo Ottimo Qua Dove Ha rotta la finestra Boh Entriamo qua Sta sopra di me Sta nelle scale Sta Dove che vuole No Cosa 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 è successo Di preciso Era messo Meno male che abbiamo vinto Ragazzi Ho fatto pure un wallbang Un Un headshot Al mio compagno Meno male che abbiamo vinto Comunque Qua Ecco il mio compagno Terzo round Andiamo al cielo a giocare Allora Raga Vediamo Qui Siamo Qui Vediamo Dove siamo In ufficio Ok Non mi veniva il termine Il mio compagno Raga È venuto E sta giocando Quindi Grandissimo Io ho preso Frost Silenziata Come Quasi tutti Su Youtube Utilizzano Questa Frost Silenziata Io l'utilizzavo Normalissimo E ho detto Vabbè Perché non Utilizzarlo In un round Vediamo Se i miei compagni Siano Forti Ora con questo Giocatore qua Barricate qua Grandissimo Io Piazzo Una qua In tal caso Vogliono salire dalle scale Vogliono fare il giro Si beccano la mia Grandissimo Quello scudo Lo potrei Pizzare No Lo vedo Non lo stesso Dove voglio stare Il derone Bella Comunque Gli avversari Si uccidano Ogni round Mi si è buggato Il mondo Va bene Qui raga Non posso piazzarlo No No Non mi piace Allora Vediamo di andarlo A mettere sotto la finestra Allora No C'è pure Lo Jäger Non mi piace Neppure qua Cioè raga Mettere le trappole Per frost Ecco Uno No 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 Stai calmo E' come quando una ragazza Dove scegliere un vestito Più o meno Non si sa mai Quale Quale sia il posto buono Eccetera Allora qua lo scudo Lo potevo pazzare Ma dopo il mio compagno Come cavolo entra Allora Lì Grandissimo 4-2 Allora Qua voglio pazzare lo scudo Messo così Aspettate C'era quella alla finestra Corri 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 Ok Perfetto Ottimo Vediamo se da qua c'è qualcuno Non vedo nessuno Ottimo Fantastico 4-1 Vabbè raga Non mi stanno facendo giocare I miei compagni Io piazzo questa qua Nel disperato tentativo Di ucciderlo Ma Raga sono devastanti I miei compagni Andiamoci a giocare Il quarto ed ultimo round Di questa partita Dominata Ok Vediamo raga Stavolta Con Twitch Cosa riesco a fare Ultimo round Vediamo Deve essere l'ultimo round Perché non ne voglio giocare Altri Allora Questi qua Uh Grandissimo Si sono riusciti Ma quello di là È dovuto uscire Praticamente Vabbè Tanto è l'ultimo round Cioè A prescindere Non Non mi interessa Altre cose Allora vai È mio da mettere Fuori Da questa Giusto Sarò un po' S'uscire Da là Non mi piace Vado dal mio compagno Vado da Thatcher 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 Vieni qua Vieni qua Allora Parliamo Quali sono i tuoi problemi Eh Quali sono Allora No È scappato il mio amico Thatcher Perché Allora Vediamo Con Twitch Cosa riesco a fare Allora Saliamo da questa Eh raga Me la rascio Cioè Non Non mi interessa stare qua Assolutamente Proviamo un wallbang Oh Con l'ultimo colpo L'ho preso Con l'ultimo colpo Del caricatore Grandissimo Doc Bellissima Un altro wallbang Grandissimo Un wallbang Così non me l'aspettavo proprio Wallbang Con l'ultimo colpo Del caricatore Già il clickbait Fat In realtà non è un clickbait Eh Comunque Vediamo Qua c'è qualcosa No Ottimo Ehm Ehm La cavolo sta Ok sta qua Sta qua Sta qua Sta qua No Lo volevo uccidere io L'ho ucciso il mio compagno Ehm Vabbè Bella partita raga Ehm Io ho fatto 2-1-1 Una partita bella tranquilla Bella Bella simpatica Non ho fatto tante kill Ma ho fatto il wallbang Ehm E qual è stata l'altra? E non mi ricordo qual è stata l'altra Comunque raga Per questo appuntamento È tutto Vi ringrazio tantissimo Nell'edizione Vi ricordate Se vi è piaciuto questo video Commentarlo Condividalo Spolliciate Ehm Vediamo raga Qui si sale O si scende Cioè si sale A prescindere Ma di quanto? Qua è 160 3.376 punti Cioè È pochissimo Comunque raga Qui Il